Nuovo appuntamento con l'informazione di Spazio Notizia ben ritrovati. Parliamo subito di cronaca in apertura all'omicidio a Santa Croce e Camerina al culmine di una rissa tra tunisini. Fermate tre persone. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Ragusa e della stazione di Santa Croce e Camerina, in collaborazione con i colleghi del nucleo investigativo, hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di tre cittadini di origine tunisina, emesso nella giornata odierna dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ibleo, che ha coordinato sul posto una rapida e complessa attività di indagine avviata a seguito dell'omicidio di un connazionale 21enne al culmine di una violenta rissa nella zona centrale di Santa Croce e Camerina nella serata di sabato 7 settembre. Una dozzina i soggetti a vario titolo coinvolti negli scontri e relazioni ai quali proseguono le indagini finalizzate a definire le esatte responsabilità di ognuno. L'identificazione dei tre fermati, due fratelli di 22 e 25 anni e un terzo soggetto o 28enne, è stata possibile grazie alle attività di indagine effettuate nell'immediatezza dei carabinieri, allertati dalla Polizia Municipale Camarinense, che ha fornito un fattivo contributo. In particolare l'acquisizione di alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza, suffragati da testimonianze circostanziate dei fatti e da rilievi tecnici espletati dal personale specializzato del nucleo investigativo, hanno permesso di ricostruire minuziosamente, in tempi brevissimi, la dinamica e lo sviluppo del tragico episodio delittuoso. Da quanto finora è emerso, la giovane vittima, raggiunta da un fendente al petto nel corso della risse, deceduta pochi secondi dopo, avrebbe avuto una colluttazione con i due fratelli fermati, a loro volta successivamente aggrediti dal 28enne. Un 36enne, infine, è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni Paolo II di Ragusa per delle ferite lacero-contuse al capo, apparsi inizialmente piuttosto serie. Medicato dai sanitari, è stato però dimesso poche ore dopo con una prognosi di 10 giorni. E adesso ci spostiamo a Gela, dove si è svolta stamane un'operazione antidroga, nel corso della quale è stata sgominata un'organizzazione dedita allo spaccio di droga. I carabinieri hanno eseguito ordinanze cautelari per 14 persone, 9 gli arrestati, uno ancora ricercato. I carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone, indagate a vario titolo per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione condotta dai carabinieri di Caltanissetta e coordinata dalla DDA della Procura nissena riguarda un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti con base a Gela. Dei 14 indagati, 9 sono stati arrestati, 8 condotti in carcere e 1 agli arresti domiciliari. 4 invece sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, 1 invece risulta essere tuttora irreperibile e attivamente ricercato. E adesso voltiamo pagina, ci spostiamo in ambito sanitario e parliamo della campagna Noi salviamo vite, mirata al reclutamento di medici nei pronto soccorso. Intanto online la storia di alcuni studenti della scuola di specializzazione. I pronto soccorso sul territorio italiano sono 525 e offrono assistenza 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, integrandosi con il sistema del 118. Solo nel 2023 hanno registrato 19,7 milioni di accessi e sono un riferimento per chi ha bisogno di cure tempestive o è in pericolo di vita. Servono però più medici specializzati per garantire un servizio essenziale in tempi di attesa giusti. Promuoverne il reclutamento è l'obiettivo di Noi salviamo vite, la campagna presentata al Ministero della Salute per aumentare le adesioni alla specializzazione in medicina di emergenza e urgenza. Lo scorso anno accademico, infatti, delle 945 borse per l'emergenza e urgenza messe a bando in 37 Atenei è stato assegnato soltanto il 25%. Per questo il Ministero della Salute, in collaborazione con l'Associazione Italian Emergency Medicine School e con la partecipazione del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ha realizzato la campagna di comunicazione Noi salviamo vite. La campagna, che si rivolge ai laureandi e ai laureati in medicina, sarà diffusa nei mesi di settembre e novembre, periodi durante i quali gli oltre 14.000 studenti che hanno partecipato alle prove di selezione dovranno decidere a quale specializzazione iscriversi. A promuovere l'iniziativa Francesco Franceschi, presidente Italian Emergency Medicine School, il nostro messaggio spiega Franceschi, che dirige l'unità operativa complessa medicina d'urgenza presso la Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma, è un invito ai giovani a scegliere con il cuore. Molti studenti di medicina fanno la tesi in medicina di emergenza e urgenza, ma poi scelgono seguendo altri criteri come quelli economici. Proprio al lato emotivo punta la campagna, per realizzarla infatti sono stati intervistati specializzanti in medicina di emergenza e urgenza e medici già formati. Le loro testimonianze, sue esperienze e storie tratte dal lavoro quotidiano in pronto soccorso sono state raccolte in un videotaser e 10 video reel per i social. E restiamo in ambito sanitario, parliamo delle ultime dichiarazioni del ministro Schillaci, secondo cui la priorità resta l'assunzione in sanità. Assunzioni di nuovo personale, si è anche incontrato con Giorgetti, afferma, ma i fondi sappiamo ci sono, ma non sappiamo ancora la cifra esatta da destinare a questi investimenti. Abbiamo avuto un incontro con il ministro Giorgetti a fine luglio, primi di agosto, e l'attenzione del Ministero è soprattutto sul personale sanitario. Queste le parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine del lancio della campagna Noi salviamo vite al Ministero. Vogliamo che ci siano più fondi per assumere il personale e vogliamo che chi lavora nel servizio sanitario venga pagato meglio. I fondi ci sono, ma non siamo ancora entrati nel dettaglio. A me interessa che venga assunto più personale e che chi lavora nel sistema sanitario nazionale sia gratificato. Vogliamo un piano per assumere medici per far fronte alla gobba pensionistica. Nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale lavorano oltre 101.000 medici. Tra questi, 4.312 medici specializzati in emergenza e urgenza. Aumentare i posti nelle specializzazioni non basta se poi non vengono coperti i posti. Lo scorso anno, dei posti messi a bando, ne sono stati assegnati soltanto uno su quattro. I giovani scappano dalle specializzazioni in emergenza e urgenza, luoghi interessati da carenza del personale e burnout. E adesso parliamo del progetto Zero Alcol in Gravidanza, promosso dall'Istituto Superiore di Sanità per informare le mamme sulle conseguenze del consumo di alcolici in gravidanza. Oggi si festeggia infatti la giornata mondiale e al via per l'occasione una campagna social. Al via il progetto Zero Alcol in Gravidanza, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità. In occasione della giornata mondiale della lotta alla sindrome feto-alcolica e dei disturbi correlati, celebrata oggi, la campagna di sensibilizzazione messa in campo sui principali social media dell'Istituto Superiore di Sanità, con il coordinamento scientifico del proprio Centro Nazionale Dipendenze e Doping, prevede la distribuzione di materiale informativo nelle scuole secondarie di primo grado, testimonianze di esperti, promozione via social media e pillole video. L'obiettivo è intercettare le giovani e più in generale chi pianifica una gravidanza per spiegare in modo semplice che non esiste una quantità sicura di alcol nel periodo della gestazione. L'unica scelta possibile per tutelare il bambino che nascerà è non assumere alcolici. Una percentuale piccola, ma pur sempre significativa, di future mamme, lo 0,2%, rientra in un profilo di bevitrice cronica, mentre quasi il 6% è bevitrice sociale, cioè beve saltuariamente durante incontri e uscite con amici e colleghi, come evidenziato dagli ultimi dati del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità, dati relativi al triennio 2019-2022, che spingono a rafforzare l'informazione su quanto sia importante scegliere di non bere. A questa iniziativa si affianca anche il progetto Salute Materno-Infantile, Formazione degli Operatori Sociosanitari ed Empowerment delle Giovani Donne, sui rischi connessi al consumo di alcol in gravidanza, supportato dal Ministero della Salute e coordinato dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping e dal Servizio Tecnico Scientifico di Coordinamento e Supporto alla ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, che prevede corsi da destinare agli operatori sui rischi alcol correlati, con lo scopo di fornire skills per la strutturazione di ambulatori per la diagnosi precoce dello spettro dei disturbi feto-alcolici. Nell'ambito dell'azione di formazione del progetto, oggi partirà il primo corso di formazione a distanza dal titolo Alcol e uso di sostanze in gravidanza, erogato sulla piattaforma edwis.it. E adesso voltiamo pagina, parliamo di uno studio secondo cui l'utilizzo degli smartphone a letto peggiora il sonno. Il gaming da questo studio risulta essere l'attività più dannosa. I ragazzi che usano lo smartphone o altri dispositivi elettronici a letto dopo essere andati a dormire hanno una durata del sonno inferiore rispetto a chi non ne fa uso. Ad avere un impatto maggiore sono le attività interattive come il gaming. E' quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Pediatrics che però smentisce ricerche precedenti. Gli effetti negativi dello smartphone e degli schermi sul sonno si osservano soltanto quando viene usato una volta che ci si è messi a letto e non nelle ore immediatamente precedenti. Nell'era digitale gli adolescenti trascorrono più tempo che mai davanti agli schermi potenzialmente a scapito del loro sonno. Pertanto l'American Academy of Pediatrics e gli enti sanitari a livello internazionale hanno raccomandato che gli adolescenti smettano di usare gli schermi da uno a due ore prima di andare a letto. Il team ha analizzato il comportamento di 79 ragazzi tra gli 11 e 14 anni e valutato gli effetti dell'uso dei dispositivi sul sonno. In media i ragazzi trascorrevano 56 minuti in compagnia dello smartphone o di altri schermi nelle due ore prima di andare a dormire. Con sorpresa i ricercatori hanno scoperto però che questo tipo di uso non aveva alcun effetto sul sonno. Gli effetti invece erano osservabili quando i dispositivi venivano utilizzati una volta che ci si era messi a letto. L'uso di schermi durante l'intervallo tra il momento di andare a letto e quello in cui si tenta di dormire era significativamente associato a una durata del sonno più breve, scrivono i ricercatori. L'uso di schermi interattivi come giochi e multitasking era particolarmente problematico, sebbene anche le attività passive su schermo come guardare un film fossero associate a una durata del sonno più breve. E adesso invece parliamo di cyber security. Gli italiani risultano da un sondaggio essere molto ferrati sulle password sul loro utilizzo ma bocciati sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Dalla ricerca è emerso infatti che l'Italia è undicesima per conoscenza dei rischi digitali. Gli italiani sono all'undicesimo posto al mondo in termini di competenze su sicurezza e privacy online. Inoltre eccellono nella creazione di password forti ma faticano a identificare i problemi di privacy legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale sul lavoro. Il National Privacy Test è un'indagine annuale e globale volta a valutare la consapevolezza della riservatezza dei dati e a educare il pubblico sulle minacce sull'importanza della sicurezza delle informazioni nell'attuale era digitale. Quest'anno il report ha raccolto 25.567 risposte da 181 paesi. I primi 5 in quanto a conoscenza dello scenario sono Singapore, Finlandia, Lituania, Germania e Stati Uniti. Stando ai ricercatori i risultati hanno mostrato un progressivo peggioramento medio dei livelli di consapevolezza della privacy online e della sicurezza informatica. Nello specifico del nostro paese, gli italiani sono bravi a creare password forti e a gestire le offerte sospette di servizi di streaming. Conoscono anche le autorizzazioni da concedere alle diverse app i rischi in cui si incorre salvando i dati della propria carta di credito sul browser e quali dati sensibili evitare di condividere sui social media. Eppure, solo il 7% sa quali sono le questioni da considerare quando si utilizza l'intelligenza artificiale in ambito lavorativo. E solo il 9% sa quali dati vengono raccolti dai fornitori di servizi internet come parte dei metadati. Inoltre, gli italiani sono per lo più ignari delle soluzioni di protezione della propria rete Wi-Fi domestica, ritenendola probabilmente sicura di default. Infine, solo il 18% sa dove conservare le password in modo sicuro. Ma c'è anche una nota positiva. Rispetto a un anno fa, un numero maggiore sa come agire nel caso di una violazione informatica, cambiando password o avvisando il proprio fornitore di servizi. Siamo giunti al termine di questa edizione dell'informazione di Spazio Notizia. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.